Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovo video. Come sempre mi raccomando rimanete sintonizzati su Pausa Caffè per non perdervi assolutamente i nuovi video. Quindi iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Detto questo torniamo nel mondo della tv dove arrivano clamorose indiscrezioni su Federica Panicucci e soprattutto la sua reazione nel momento in cui Mediaset ha ufficializzato una notizia assolutamente inattesa. Secondo quanto emerso in questa ora, la conduttrice non avrebbe preso una cosa bene e ci sarebbero stati degli improvvisi malumori. Ovviamente non si può parlare proprio di ufficialità delle cose ma dagli ambienti del biscione sarebbe trapelata questa informazione che sta un attimino scuotendo tutti. Tutti io intendo i telespettatori. In attesa di ulteriori novità, ciò che abbiamo finora saputo è che Federica Panicucci pare non abbia certamente festeggiato quando ha fatto una scoperta su Mediaset. Nonostante la sua trasmissione Mattino 5 ottenga buoni risultati e il suo posto non sia assolutamente a rischio, lei si sarebbe aspettata un altro tipo di decisione dai vertici dell'emittente televisiva. O almeno è ciò che ha rivelato in anteprima il sito Ultime Notizie Flash. La reazione a cui facciamo riferimento riguarda la notizia, relativa all'uscita di scena di Barbara D'Urso da pomeriggio 5. Federica Panicucci ha saputo la scelta di Mediaset sicuramente come tutti gli altri, in virtù del comunicato ufficiale diramato dall'emittente di Pier Silvio Berlusconi. Ma Ultime Notizie Flash ha sottolineato che ci sarebbero dei rumor che avrebbero visto la presentatrice totalmente insoddisfatta per ciò che si è detto successivamente. Stando al sito in questione, la Panicucci avrebbe manifestato delusione e avrebbe anche il rosicato, nel momento in cui il suo nome non è mai stato fatto come erede di Barbara D'Urso a pomeriggio 5. Alcuni addetti ai lavori avrebbero fatto sapere che lei si sarebbe attesa una proposta per approdare in quella fascia oraria su Canale 5. Anche se resterebbe in piedi pure un'altra ipotesi, che per il momento non ha trovato riscontri certi. Non sarebbe da escludere nemmeno la possibilità che pomeriggio 5 non vada proprio in onda da settembre, quindi sarebbe sostituito da un nuovo programma. Ma per il momento sono stati fatti i nomi di Mirta Merlino e di Alessandra Viero come papabili sostitute di Barbara D'Urso. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.